E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up With Iaia Rondi, io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e buon anno nuovo, perché io sono completamente in hangover, siamo praticamente andate a fare brunch e sto con lo stesso outfit di pranzo, di brunch, breakfast brunch, non lo sapete no? Cos'è il brunch? e quindi sto abbastanza sconvolta, vi avverto, però ho detto devo registrare il nuovo episodio del podcast quindi devo assolutamente farlo, non posso lasciarti senza e quindi siamo nel 2024, stranissimo pensare che siamo già nel 2024 mamma mia, sembra veramente ieri che era iniziato il 2023 ma comunque, facciamo questi discorsi da vecchietta, perché se no vabbè e se mi seguite sui social, Instagram, TikTok, avete visto che ho fatto un sondaggio e vi ho chiesto appunto se volevate degli episodi più lunghi, più corti perché alcune persone mi hanno detto, Ila ma parli troppo e ho fatto il sondaggio e tutti quanti mi hanno detto, noi la vogliamo gli episodi lunghi cioè, io che sono praticamente una logorroica di prima classe di prima categoria possiamo anche dire ho detto, ma ovvio, ovvio che ve li faccio lunghi quindi eccomi qua, eccomi qua anche perché se io penso che devo fare gli episodi corti raga, mi perdo le cose, quindi non vi dico tutto quello che vi voglio dire quindi preferisco così, preferisco anch'io che gli episodi, questo episodio sarà un pochino più lungo al solito, perché parlo troppo, lo sapete allora, di cosa parleremo in questo nuovo episodio? voi ve l'avevo già detto il mio podcast si chiama Keeping Up With Iaia Rondi non è soltanto Ilaria in America o un'italiana negli Stati Uniti, no l'ho voluto chiamare così perché, come vi avevo già accennato non sarà solo e soltanto sugli Stati Uniti ma saranno anche altri argomenti come l'episodio di oggi l'episodio di oggi voglio parlarvi un pochino questo, ripeto, se voi mi seguite sui social purtroppo è un argomento che viene trattato cerco di trattarlo il meno possibile ma quando ce vuole, ce vuole come diciamo a Roma, quando ce vuo, ce vuo ci sono troppe persone ignoranti, cattive che probabilmente devono essere, possiamo chiamare, educate quindi nell'episodio di oggi voglio parlarvi della situazione aspetto fisico in Italia e negli Stati Uniti voglio raccontarvi un pochino della mia storia voglio raccontarvi chi è Ilaria sotto il punto di vista aspetto fisico come è stata la mia infanzia perché ad oggi mi ritrovo a voler affrontare anche sui social molto spesso quando rispondo alle persone ripeto, se mi seguite lo sapete e seguitemi mi raccomando mi chiamo sempre Iaia Rondi su Instagram e TikTok perché cerco un pochino di sensibilizzare le persone sui social, magari quando rispondo alle domande eccetera eccetera allora io sono nata nel 1993 ho 30 anni e fin da piccolina io sono stata un pochino rotonda mia madre mi diceva sempre sia un pochino rotonda nel senso in modo carino e non ero la bambina come magari le altre mie amichette sai magrolina tutta bella sai con i vestitini i leggings quelli extra extra small noi Ilaria da piccolina era un pochino cicciottella e diciamo avevo cominciavo ovviamente da piccoli non avete la stessa fisicità che avete insomma da 30 anni non ero ovviamente come sono adesso quando ero più piccolina avevo magari un po' di pancetta ero bella rotonda e diciamo quindi che il rapporto con il mio fisico è iniziato già da piccolina asilo elementari medie prima mi hanno preso in giro fin da quando andavo all'asilo perché ripeto non ero la bambina magrolina come tutte le mie amichette ero un pochino più cicciottella quindi all'asilo già mi cominciavano a prendere un pochino in giro poi andando alle elementari la cosa è abbastanza peggiorata nel senso che ho subito bullismo anche a livello fisico da parte dei miei compagni di classe vi racconto questo aneddoto anche perché ci fu un casino perché mia madre andò dalla preside adesso vi racconto un po' allora io andavo a scuola non ci sono cose se siete di Roma e conoscete la zona lo sapete io andavo a scuola a Villa Lazzaroni insomma zona più tuscolano e dentro la classe avevo dei compagnetti belli cattivelli mi prendevano in giro in giro costantemente fatto sta che ci sono stati degli episodi in cui praticamente un giorno misero i banchi a quadrato e cominciarono a spingermi da banco a banco quando ovviamente non c'era la maestra eravamo da soli in classe e questo era uno dei tanti episodi che io nonostante fossi piccola ancora me li ricordo molto bene poi successe questa cosa che appunto mia madre dovette andare dalla preside insomma un casino vi lascio immaginare eravamo davanti alla rete che diciamo circonda il giardino in cui e noi se siete andati a Villa Lazzaroni sapete di cosa parlo c'era il giardino e c'è la grada insomma intorno al giardino e poi davanti c'è la casa dei gatti dove ci sono tutti i gatti e e c'è un albero noi lo chiamavamo l'albero delle scimmie un giorno stavamo giocando e uno dei miei compagni che si chiama Luca non dirò il cognome perché penso di odiare quella persona con tutta me stessa però non vi dirò il cognome anche perché io non ho mai più avuto rapporto con questo ragazzo non ci ha mai più sentito ovviamente e era quello diciamo che il leader dei ragazzetti erano tutti maschi che mi prendevano in giro lui era proprio il leader non si sa perché lui mi odiava completamente lui odiava il fatto che io fossi un pochino più cicciottella rispetto alle mie amichette e stavamo giocando sull'albero e da un momento all'altro praticamente mi spinge e mi butta giù dall'albero per fortuna ero aggrappata ad un ramo diciamo non troppo alto e appunto e c'erano tutte le mamme perché sapete quando giocavamo all'elementare all'asilo ovviamente eravamo piccolini quindi c'erano le mamme e magari si mettevano da una parte e parlavano e mi ricordo che mia madre ovviamente corse e mi disse Ilaria come stai stai bene che è successo e gli disse guarda Luca mi ha spinto fatto sta che la madre di questo Luca era mi sembra la rappresentante di classe non mi ricordo e cosa successe praticamente mia madre ovviamente visto che io già avevo già mi ero lamentata con mia madre e mio padre del fatto che Luca mi prendesse in giro praticamente sempre a scuola e mia madre ovviamente disse alla madre di Luca ma questa non è la prima volta che tuo figlio diciamo anche fisicamente tocca a mia figlia bisogna bisogna fare qualcosa fatto sta che appunto purtroppo la mamma di questo Luca era una di quelle persone che non non sanno stare al mondo diciamo così perché siamo in un podcast e non mi va di essere cattiva o di dire le cose come stanno facciamo finta che fa parte delle persone che non sanno stare al mondo e cominciò a litigare con mia madre dicendo tu sei pazza ti sto inventando tutto non è vero che Luca ha spinto l'aria e da quel giorno praticamente questa persona mise tutte le mamme contro mia madre fatto sta che ci fu appunto questa situazione che poi avevo chiesto a mia madre di raccontarmela meglio però non c'è stata occasione e mi ricordo che è una cosa che mi ha segnato tanto perché non solo ci ho rimesso io ma ci ho rimesso anche mia madre che comunque era amica con le altre mamme ed è stata diciamo messa da parte per colpa di questa mamma della mamma di Luca quindi diciamo che ovviamente poi le cose sapete alimentari medie se si è ancora un pochino piccolini quindi diciamo alle medie è andata un pochino meglio ed è brutto dirlo in questo modo è andata meglio per il semplice fatto che avevo in classe qualcuno più in carne di me è veramente brutta e assurda come cosa ma è la realtà praticamente le cose sono migliorate tra virgolette perché avevo delle persone più in carne di me e quindi erano loro il bersaglio io ero ancora il bersaglio ogni tanto però molto molto meno ovviamente loro bersagliavano le persone più in carne di me che poi io non ero sapete carne carne che tu dici ero 20-30 chili in più assolutamente no io ero soltanto una bambina con qualche chilo in più e mia mamma mio papà mi sono sempre hanno cercato sempre di aiutarmi ma comunque ero una bambina e mia mamma mi portava dal nutrizionista dal dietologo mia madre me lo diceva sempre anche quando sono cresciuta ho detto mamma ma perché io sono sempre stata la ragazza cicciottella e lei mi ha detto amore mio ma io ti ho sempre portato dal dietologo dal nutrizionista diciamo che tu di corporatura sei sempre stata un pochino più cicciottella un pochino più in carne rispetto alle tue amichette ma tu non hai mai avuto una situazione che tu dici mamma mia bisogna assolutamente operarti sei obesa assolutamente no mi ha detto tu eri semplicemente un pochino più in carne però purtroppo per colpa di perché lo sappiamo nella vita o che sei un pochino più cicciottella o che sei troppo magra perché stai male con te stessa perché le persone sono cattive in questo mondo purtroppo e quindi diciamo poi alle medie e alle superiori la situazione è un pochino migliorata avevo sempre qualcuno sapete che anche perché poi io dalle medie fino alle superiori inizi in primo primo terza media primo secondo superiore ho cominciato ad avere questa corporatura cioè il mio corpo finalmente si è formato del tutto e sono sempre stata così sono sempre stata vita stretta e un bel sederotto prepotente chiamiamolo così e quindi diciamo da lì è sempre stato il mio il mio corpo il mio tipo di fisico e c'era sempre qualcuno sapete che mi punzecchiava e e soprattutto questo tipo di fisico mi ha sempre portato ad essere sapete quando incontrate qualcuno e magari il ragazzo che vi piace e c'è sempre la tipica frase eh vabbè sei carina è un bel fisico però però c'hai il culo grosso oppure vi dicono però il fisico e tu dici ti senti ti senti una merda ti senti ti chiedi perché perché sono nata così perché sono nata più cicciottella della ragazza perfetta che che poi non esiste la perfezione perché nessuna di noi è perfetta abbiamo tutte tutte siamo complessate nel nostro essere c'è quella che vuole essere un po' più grassottella c'è quella che vuole essere più magra c'è quella che non gli piace nei fianchi e cosce nessuna è perfetta però ovviamente noi guardiamo sempre alla ragazza la vediamo ma lei è perfetta e quindi capito ti viene la cosa di dire perché non sono nata così perché non sono nata come quella ragazza perché sono io da piccola avevo diciamo che mi piacevano i ragazzetti diciamo belli stronzi devo dire la verità fin da quando sono stata piccola mi sono sempre piaciuti ragazzi che mi prendevano in giro cioè fondamentalmente più di una volta perché ero stupida sono stata usata da ragazzini al tempo ovviamente usata nel senso non stiamo parlando di andare a letto ero un pochino più piccolina lo sapete ve l'ho raccontato io la prima volta l'ho fatta a 18 anni quindi comunque ero abbastanza grandicella sono stata usata nel senso che mi hanno fatto credere a no mi piace di qua e di là ma in verità nel gruppo di amici praticamente dicevano Ilaria è cicciona Ilaria non mi piace non mi ci metterei mai con l'aria perché è cicciona voi non sapete quante volte ho sentito questa frase o quante volte le mie amiche magari io sai no perché ciccio bello ci siamo sentiti mi ha scritto su facebook e su messenger e le mie amiche mi dicevano Ilaria io non ti voglio di niente però quando non ci sei dice che stai cicciona te prende in giro tantissime volte mi è successo ma sono sicura che è successo anche a voi quindi il fatto di avere questo tipo di fisico mi ha sempre condizionato sempre io mi sono sempre chiesta con tutte le volte mi guardavo allo specchio mi chiedevo perché sono nata così perché ho il sedere grosso perché poi comunque lo sapete c'è una concezione di bellezza fisica in Italia e in questo momento stiamo parlando ovviamente di Italia in Italia devi avere il sederotto bello tondo non troppo grande non troppo piccolo e devi avere un bel seno poi ovviamente gambe lunghe magre insomma quella è la concezione di bellezza in Italia che appena hai un pochino la caviglia più grande il polpaccio più grande il sedere più grande sei cicciona cioè le persone non si rendono conto che dire cicciona a qualcuno perché magari ha il sedere più grande la caviglia più grande non sta nel cielo né in terra cioè non esiste dire cicciona ad una ragazza perché ha un ragazzo perché sono un pochino più in sovrappeso no quindi diciamo che questa cosa mi ha fatto soffrire tantissimo da piccola l'ho vissuta veramente male perché non sono non so come dirvelo non sono mai riuscita ad avere il ragazzo che mi piaceva cioè il ragazzo che mi piaceva non sceglieva me sceglieva la ragazza magra che magari nel senso eravamo eravamo molto simili magari era più simile caratterialmente a me che all'altra ragazza ma lui sceglieva la ragazza più magra non sceglieva Ilaria e questa cosa è successa diciamo che uno dei ragazzetti il peggio di tutti quello che mi ricordo tutti i giorni perché mi piaceva tantissimo mi ricordo che io ci stavo malissimo perché a capodanno lui portò l'altra invece di me che aveva appena conosciuto nonostante io gli avessi detto più e più volte che mi piaceva poi ho scoperto e mi prendeva in giro con tutti gli altri niente di nuovo quindi sono certa che tantissime di voi in questo momento noi che abbiamo vissuto in Italia purtroppo purtroppo abbiamo vissuto in Italia vi sentite come mi sento io è una cosa che ti condiziona mi ha condizionato è una cosa che soprattutto mi fierisce cioè solo il pensiero mi mi fa stare male cioè mi mi fa emozionare perché so quanto quanto mi ha fatto soffrire una cosa del genere no veramente ragazze veramente se ci penso ragazzi ho una lesta infinita di ragazzini quando ero più piccolina che mi piacevo ne hanno detto di no perché ero più cicciottella è triste come cosa è veramente triste comunque ripeto questa purtroppo è la concezione è questo è l'aspetto fisico che devi avere in Italia per essere bella perché voi appena un minimo avete qualche chilo in più la società in Italia non vi accetta perché voi siete grasse siete ciccione siete in sovrappeso e non siete belle tu per essere bella in Italia devi per forza essere magra e a me non io capisco che ci sono tante ragazze molto spesso nei miei profili che mi dicono io la guarda che anche essere troppo magre ti criticano sempre e su questo ci siamo ragazzi su questo ci siamo avete ragione o che sei troppo grassa e ottella o sei troppo magra ti diranno sempre che c'è qualcosa che non va o ma mangi o ma quanto mangi sono quelle due sono le solite domande ma mangi o o ma quanto mangi queste sono sempre le stesse cose che ti dicono tutti e assolutamente avete ragione però però credetemi essere più in sovrappeso vi ponsecchiano molto di più di quando siete magari troppo magre o comunque magre perché non andate bene perché la società italiana si è tutto intorno all'essere magra quindi voi appena prendete un po' di peso perché magari in quel periodo state durite andate di farmaci cortisone ma state mangiando un po' di più in quel periodo avete partorito magari avete quei ghiletti che non riuscite a levare siete depresse avete dei problemi ci sono una miriade di problemi che una persona può avere perché magari è ingrassata e ovviamente ci sarà sempre qualcuno che ti dirà ma sei ingrassata ma che hai fatto mi hai messo peso non rendendosi conto che magari ho una patologia di cui non voglio parlare che mi porta magari sto prendendo dei medicinali e sto prendendo peso cioè tu persona che mi dici sei troppo magra sei troppo grassa te sei ingrassata che sei tu per dirmi una cosa del genere come ti permetti di giudicare il mio fisico non sapendo cosa sto passando magari mi piaccio di più magari non mi piacevo quando avevo 10 kg in meno mi piaccio che c'erano 10 kg in più ma a te che te frega a te ti cambia la vita ti vengo a mangiare a casa me sei tu che mi fai la spesa assolutamente no quindi questo bisogno impellente proprio di dover giudicare il corpo altrui la vita altrui ripeto queste sono cose di cui io parlo sempre sui social anche il bisogno perché questa purtroppo è una cosa di noi italiani l'italiano medio deve per forza sapere cosa succede nella tua vita sei ingrassata voglio sapere perché sei ingrassata senti ma sei fidanzata sei sposata ma il fidanzatino ma quando ti sposi ma quando ti fidanzi senti ma siete sposati vi siete sposati un mese fa ma ma quando li fate i figli c'è c'è una cosa che mi fa ride che quando noi io ve l'ho raccontato mio papà la sua famiglia vive in Calabria quindi noi tutte le stati scendiamo ci sta mia madre che mi sta chiamando scusate un attimo mamma sto sto registrando il podcast ti chiamo tra un secondo ciao 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 scusatemi lo sapete se succede sempre qualcosa e vi stavo dicendo noi tutte le stati scendiamo in Calabria e e ridiamo sempre perché appena arriviamo i parenti di mio padre dicono e quando arrivi e quando te ne vai e dovevi a serie oh sono appena arrivata già già mi chiedi quando me ne vado purtroppo c'è sta cosa degli italiani che noi dobbiamo sapere tutto dobbiamo sapere tutto di tutti dobbiamo sempre parlare di tutto e di tutti dobbiamo sempre criticare dobbiamo sempre di la nostra perché noi siamo fatti così noi siamo chiacchieroni stiamo sempre stiamo sempre in mezzo sempre in mezzo il candelabro sempre in mezzo però cioè tu non sei nessuno per potermi fare quelle domande ritornando al fatto tu non sei nessuno per giudicare il mio fisico per chiedermi perché te sei ingrassata chiedermi ma quando li fai i figli ma li fai i figli ma te sei sposata e che fai ma quanto li fai a 40 anni ma a te che te frega a te che te frega io questa cosa non lo so cioè a meno anche da più piccola a me non mi è mai venuto in mente di andare da una persona da una mia amica da un parente ma te sei ingrassata ma che fai no no ma perché prima di tutto mi vergogno non so se anche voi siete così ma io in prima persona mi vergogno io stessa devi fare una domanda del genere di andare a chiedere a uno ma perché non fai i figli ma a te che te frega cioè a me non mi verrebbe mai in mente di andare a chiedere una cosa del genere a qualcuno io sono fatta così ma sono sempre stata fatta cioè non è che me l'ha insegnato qualcuno me lo sento io dentro una cosa che ho sempre pensato cioè una cosa che mi metterei in imbarazzo da andare a chiedere a qualcuno ma senti ma vi sei spostata ma quando gli fate i figli ma ci state provando no non si chiate non si fa quindi diciamo questo per dirvi che purtroppo noi che siamo nati e cresciuti in Italia abbiamo e avremo sempre questo questo problema chiamiamolo problema della società italiana altro altro non non si può fare comunque comunque passando all'altro discorso allora stavamo dicendo quindi vi ho raccontato un pochino della mia situazione quando ero più piccolina adesso passiamo al fatto che io sono cresciuta e soprattutto prima non c'erano i social media come ci sono adesso quando ero più piccolina io insomma se siete 93 92 lo sapete al massimo avevamo messenger messenger coi trilli msn msn poi è iniziato facebook e poi piano piano è iniziato instagram quello un pochino dopo quindi non c'era ovviamente non c'erano i social non c'era il body positive non c'era che adesso il mio fisico va di moda ci sono praticamente miliardi di persone al mondo che vanno dal chirurgo e si rifanno per avere il mio tipo di fisico il fisico la kim kardashian quindi prima i social non c'erano quindi non c'era il corpo di kim kardashian che va di moda no c'erano c'era la televisione quindi c'erano le letterine c'erano le veline che erano tutte belle magre bionde acchazzurri more tutte capite la canalis la blasi tutte perfette quello c'era quindi non c'era ripeto come adesso il body positive il corpo la marylene morro che poi il corpo che diciamo nei miei social viene tanto criticato il mio fisico viene tanto criticato quello è il corpo alla marylene morro qui stiamo parlando ma anche ai tempi delle idee greche e romane qui stiamo parlando del tipico corpo che rappresenta la donna cioè se voi guardate i quadri di botticelli i quadri di michelangelo quello che vi pare le sculture la donna è il mio tipo di fisico la donna ad anfora cioè quello quello anche ai tempi dei degli pittori degli scultori degli scrittori la donna era vista cioè la perfezione di donna era quella e adesso ovviamente non sto dicendo che chi è magra non è perfetta assolutamente no però vi sto dicendo vi sto parlando ovviamente della mia esperienza di quello che mi succede a me sui social di quanto mi massacrano del fatto che io sia insomma abbia questa fisicità quella che quello fisico che voi criticate tanto è il fisico che era la perfezione al tempo la donna la donna romana la donna greca le idee greche cioè erano fatte così e adesso ovviamente abbiamo Kim Kardashian insomma stiamo là paragoni stiamo là però che dirvi nel senso io io non mi sono mai accettato ok adesso parliamoci chiaro io non mi sono mai accettata io ho sempre disprezzato il mio corpo sempre 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 coperto sempre coperto il mio popò come lo chiama mia mamma il mio popò sempre giacche lunghe cardigan lunghi sapete al tempo andavano di moda la magliettina col cardigan lungo quindi io sempre coprivo sempre cioè nemmeno nemmeno mi valorizzavo perché io mi vergognavo del mio corpo nonostante non avessi io non ho mai avuto pancia sempre ho avuto la pancia piatta sempre ho avuto zero fianchi cioè scusate zero vita la vita stretta io non mi valorizzavo io mi rendevo ancora più larga perché ovviamente mi ricoprivo stradi contro stradi perché mi vergognavo quando io camminavo per strada mi sentivo che se non mi mettevo il cardigan la gente mi guardava il sedere era proprio qua nella mia testa tutti mi stanno a guardare il sedere perché c'è un serio grosso al mare io non mi mettevo il costume vi faccio le foto io mi mettevo il pantaloncino mettevo il sopra il bikini sopra e mettevo il pantaloncino le connelline quelle a costume perché io mi vergognavo nonostante io avessi un bellissimo fisico io non avevo io sempre stata ripeto pancia piatta vita stretta sempre col pantaloncino o la connellina a costume mi ricordo che mia mamma ovviamente non mi diceva niente mi assecondava perché sapeva che comunque non stavo bene come stessa non veniva da me mi diceva perché non ti metti il bikini ma perché ti metti il pantaloncino no sono da mia madre mio padre mi hanno sempre insomma sostenuta però io mi vergognavo io completamente il mio fisico non lo valorizzavo ma proprio per niente quando poi ovviamente è cominciata la moda del mio tipo di fisico e ovviamente mi sono trasferita negli Stati Uniti il trasferirmi negli Stati Uniti è stato proprio il la chiamiamo la ciliegina sulla torta ad avermi completamente cambiata cioè trasferirmi negli Stati Uniti mi ha finalmente fatto capire che sono bella così come sono e vengo apprezzata vengo apprezzata nonostante io non abbia quei 5 chili in meno io probabilmente cioè il trasferirmi negli Stati Uniti è stato proprio un boost di self confidence cioè io lo faccio apposta adesso io lo faccio apposta mi metto i leggings mai messi i leggings in Italia mai sei pazza i leggings in Italia mai io vi dico vi dico che pure in palestra perché io da piccolina facevo danza facevo ginastica artistica mi mettevo sempre legata in vita il maglioncino la camicetta a quadri per coprirmi sempre mai messo i leggings mai messo una cosa piattillata mai mi vergognavo come un cane adesso negli Stati Uniti lo faccio apposta perché mi sento bella perché gli occhi delle persone le persone che mi guardano che mi fermano per strada e mi fanno i complimenti mi hanno aiutata ad accettarmi mi hanno aiutata a capire che non sono sbagliata è sbagliata la società è sbagliata la società in cui ho vissuto sono nata e cresciuta è quello che è sbagliato e qui attenzione non si sta parlando del fatto eh ma in America sono obesi lo sanno pure loro qual è la differenza tra una persona obesa e una persona un pochino più in carne anzi ma qui nemmeno sono in carne io il tipico il mio fisico è il fisico perfetto negli Stati Uniti tutte le donne sempre mi fermano ovunque vado supermercato sono con Dylan fermano Dylan sempre gli chiedono ma quella è la tua donna è la tua fidanzata ma è bellissima un fisico stupendo sempre sempre mi fermano sempre mi fanno i complimenti sempre mi ha aiutato cioè voi non vi rendete conto quanto mi ha aiutata ho finalmente capito che non sono sbagliata non sono sbagliata le persone si si pagano milioni no milioni scusate ci sono persone che pagano migliaia di dollari migliaia di euro per i fazzi per avere il mio fisico e tutta la vita io mi sono sentita sbagliata quando di sbagliato c'è solo la società ci sono solo le persone che ci vivono che sono sbagliate non siamo noi non sono io non siete voi se magari siete un pochino in sovrappeso o avete un pochino più di forme e non siete capito sedere tette punto magra no no siete belle pure così purtroppo ragazze ragazze perché purtroppo il problema del fisico siamo noi ragazze non è il problema il nostro non è il nostro problema è il problema della società in cui viviamo è il problema della società italiana che ci ha completamente distrutte che adesso siamo che tutte sono ossessionate dalla dieta devo dimagrire perché se non dimagrisco non sono bella ma chi va ha detto ma quando mai vi giuro io ve lo dico sempre vorrei farvi vivere un periodo di tempo negli Stati Uniti e farvi rendere conto che anche le ragazze che vedete in discoteca che vedete ragazze della nostra età le stesse che vedete in Italia sono tutte belle formose hanno delle belle forme bei sederi non sono magre allampanate come ci vuole la società italiana assolutamente no e sono belle sono stupende e vicino a loro hanno il ragazzo i ragazzi che a me in Italia non mi volevano perché era un sovrappeso adesso io qui potrei avere chiunque io qui ci sono i giocatori di football i giocatori io potrei avere chiunque perché la mia conformità è quello che vuole l'uomo americano in America certo ci sono ovviamente uomini che ovviamente ognuno ha i propri i propri bussi che magari vogliono la donna un pochino magra no forme ognuno ovviamente qui stiamo parlando in generale è ovvio che ognuno ha i propri gusti però vorrei farvi vivere un periodo negli Stati Uniti per farvi rendere conto che non siamo noi sbagliate è la società purtroppo italiana che è sbagliata non c'ha nulla di sbagliato in noi e è inutile dirvi che ovviamente mio marito è completamente ma com'è giusto che sia ma penso come tutti i vostri mariti come è giusto che sia quando i vostri fidanzati quando incontrate qualcuno mio marito è ossessionato dal mio corpo soprattutto dal mio sedere il mio marito c'è H24 se mi seguite sui social lo vedete voi stessi sa sempre a farmi le pacche sul sedere sempre mi dice quanto sei bella quanto sei bella quanto ti amo quanto sei sexy perché qui c'è un'altra concezione però veramente io sono grata di aver fatto l'esperienza negli Stati Uniti perché mi ha aiutata tantissimo voi non vi rendete conto quanto mi ha aiutata era era quel quel qualcosa in più che non ho ovviamente aggiungiamo il fatto che sono cresciuta adesso ho 30 anni ci sono priorità diverse nella vita non sto più a guardare ma so cicciottella ma c'è no nel senso io sto benissimo con me stessa quello che non che non è purtroppo non ero quando stavo in Italia e mi sono perso quello che stavo dicendo vabbè e comunque mi ha aiutata mi ha aiutata e e non vi sto dicendo di andare a fare l'esperienza negli Stati Uniti però spero che tramite la mia esperienza tramite la storia che vi ho raccontato vi possa far capire che magari non c'è bisogno di viverla la cosa ma di farvi capire che non siete sbagliate non siamo sbagliate è la società purtroppo italiana che è sbagliata e le cose cambieranno assolutamente no non vi dirò mai che le cose cambieranno voglio che cambino assolutamente sì ma non cambieranno mai perché perché fino a quando ci saranno le madri le madri stesse le persone più adulte che dovrebbero dare un'educazione ai figli quando ancora ci saranno quelle persone sui social essere le prime ad offenderti a dire che fanno finta che sono dei dottori che loro manco sanno manco sanno che è quello di cui stanno parlando in quel momento capito so il dottore della situazione c'è l'ipedema sei cicciona lo devi accettare cose assurde vabbè lo sapete no se mi seguite lo sapete cose completamente fuori dal normale cioè cose che veramente tu dici sta persona ha dei figli ma l'educazione che dai figli ma come può essere se ci sono ci saranno sempre queste persone che ti vengono sotto i social se vengono sotto i video e ti dicono sei cicciona c'hai l'ipedema fai schifo fai schifo perché c'hai 5 kg in chiude vi perde quei 5 kg eh ma sei bella di faccia però di fisico se ci saranno queste persone loro stesse adulte vanno cosa insegnano i figli ovviamente i figli sono lo specchio dei genitori e se la madre e il padre stanno in giro e vedono una e dicono ammazza sta cicciona guarda quella che brutta sta cicciona il figlio sente quello che dice la madre e il padre quindi come cresce il figlio come la madre e il padre c'è bisogno di bodega ovviamente è così comunque questo discorso quanto siamo arrivati vabbè dai 40 minuti 40 minuti ma siamo allungata allarghiata e ripeto questo ragazzi per dirvi ragazzi ragazze che lo so che è difficile lo so che è difficile accettarsi perché non è non voglio fare la cosa di dirvi ragazzi dovete accettarvi perché io in primis per me è stato stra difficile accettarmi però per quanto io non ami gli Stati Uniti voi lo sapete io ve ne parlo spesso sui social io non amo gli Stati Uniti non mi piace vivere qui una delle cose stra positive è appunto il fatto che vivere qui mi ha aiutato ad accettarmi mi ha aiutato ad accettare la persona che sono con la mia fisicità e mi sento amata mi sento bella mi sento sento che posso posso vestirmi come voglio posso mettermi cosa voglio perché prima di tutto non avrò mai nessuno qui come in Italia che tutto quello che si è messa ma che si è messa madonna mia non si è vergogna no ognuno quasi fa i cavoli suoi se sei se sei vestita bene ti fanno pure i complimenti qui l'italiana è per carità del signore che ti facessero un complimento a cassiera tra un po' ti sputa in faccia quando sputa grazie devo pagare cioè in America I love your outfit I love your sweater I love your dress I love your hair ti fanno sempre i complimenti sono sempre super carucce si capito c'è sostegno a vicenda in Italia in Italia mamma mia passi ci stanno 3000 così perché magari anche e soprattutto se sei una bella ragazza così lo sappiamo così così succede in Italia mi dispiace per noi dico per noi perché per me e per voi che siamo purtroppo nate e cresciute in Italia sperando pregando che un giorno le cose miglioreranno io lo spero per voi perché dico sempre per voi magari ci sono anche delle ragazzine un pochino più piccole che mi seguono però siete fortunate perché rispetto a me e rispetto a noi insomma degli anni passati avete i social e a me i social anche i social ecco un'altra cosa mi hanno aiutata tantissimo mi hanno aiutato tantissimo ad accettarmi perché tramite tiktok tramite instagram vedere altre persone ed è anche per questo che io amo condividere la mia vita amo condividere i miei pensieri amo condividere il mio fisico il problema che ho con l'alopecia androgenetica perché so quanto mi aiuta a vedere ragazze ragazzi col mio stesso problema con i miei stessi pensieri col del dire non riuscivo ad accettare il mio corpo e adesso mi accetto sempre di più quando i social io ve lo dico sempre vengono utilizzati in maniera produttiva in maniera positiva e non per offendere per fare l'hater per odiare tutti quando li utilizziamo in modo produttivo aiutano a me in primis mi hanno aiutato quindi voi siete un pochino più fortunati perché viviamo nel nel millennio dei social quindi comunque possiamo vedere altre persone con i stessi problemi magari il problema dell'acne tante ragazze vedo che ne parlano e aiutano altre ragazze non mi so truccare vado a vedere video voglio voglio sentire qualcuno che mi fa le carte il cartomante vai su tiktok e trovi il cartomante trovi quelli che fanno fra cioè ormai noi ci abbiamo tutto quando ero più piccolino non c'era non c'era quindi siete un pochino più fortunati di me però non siete sbagliati ripeto io voglio che questa cosa voi la capiate non siete sbagliati non sono sbagliata io non siamo sbagliati nessuno di noi comunque questo è stato un episodio abbastanza personale mi sono un pochino aperta con voi spero che appreziate questa cosa spero che vi piaccia ovviamente se avete qualsiasi tipo di argomento qualsiasi dite ah Ilaria voglio che parli di questa cosa potete lasciarmi i commenti qui su youtube o potete lasciarmi i commenti sui miei social io mi chiamo sempre Iaia Rondi su instagram e su tiktok e niente ragazzi io vi saluto grazie per aver ascoltato barra guardato il mio podcast e ci vediamo nella prossima puntata nuovi episodi ogni mercoledì ciao